Più di 10.000 italiani, possessori di un personal computer, sono collegati a Internet, erano la metà solo un anno fa. Internet è una rete immensa che attraverso i fili del telefono collega oltre 40 milioni di computer in 92 paesi del mondo. È come una specie di unica città, un villaggio globale telematico, in cui tutti possono comunicare con tutti. Negli Stati Uniti gli abbonati a Internet sono più di 30 milioni e crescono del 10% ogni mese. Ma che cos'ha di speciale Internet alla quale è dedicato proprio questo libro? Consente di accedere alle banche dati, ha dei libri, consente di ricevere, di trasmettere messaggi ovunque. Soprattutto costa poco, un piccolo canale di abbonamento e il prezzo di una telefonata pubblica. Usare Internet non è facile, ma la guida più semplice che siamo riusciti a trovare è questo libro di Paolo Attivissimo, Internet per tutti, editore Apogeo. I calcolatori ci consentono oggi di... Grazie. Grazie.